Nessuno 007, finalista a un minuto, tre minuti. Cinque minuti. Complimenti di essere arrivato in finale. Cosa ne pensi? Grazie, sono molto contento di questa iniziativa e spero che sia di sviluppo per il nostro gioco. Giocare in Scacchi Stars, questi due mesi, che impressioni ti hanno portato? Mi sono divertito molto. È molto comodo perché semplicemente stando da casa posso giocare tutti i tornei che voglio. E del sistema anti-cheating, cosa ne pensi? Beh, dal momento che non baro non ho avuto gravi problemi, quindi penso che funzioni bene. Ovviamente il sistema di controllo è molto importante. Come è stato il torneo? È stato molto combattuto, sono davvero contento di essere arrivato alla fine e pure terzo è tantissimo. Grazie. 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 Grazie.